Buongiorno, ben ritrovati come tutte le mattine, siamo qui presenti per la rassegna stampa, occhio ai giornali, voi probabilmente davanti al vostro primo caffè della giornata, noi qui sul touchscreen che contiene già i giornali che vedremo fra pochi istanti, naturalmente partiamo come sempre dal santo del giorno e poi le previsioni del tempo, oggi venerdì 17 luglio, Sant'Alessio mendicante, il sole è sorto alle 5.41 e tramonterà alle 20.48, bene, previsioni del tempo, 23 gradi, questo è il dato che ci rimanda il nostro osservatorio meteorologico, quasi 24, un'umidità ancora importante però quasi il 70%, ieri a quest'ora eravamo sull'80%, però comunque sono valori importanti che ci danno la misura dell'assenso di affa che proveremo, ahimè, nel corso della giornata e che insomma sarà persistente per tutto il weekend, questo è il cielo in questo momento sopra di noi. Bene, le previsioni per i prossimi giorni, per il prossimo anche weekend sono all'insegna del bello sicuramente, quindi sono molto semplici, il cielo è poco nuvoloso e sereno, gli addensamenti nuvolosi come vedete sono sul crinale Appennini con nessuna precipitazione se non appunto sui monti Sibillini e le temperature sono in aumento, questo per oggi, per domani invece sabato 18, come vedete sono scomparse anche le nubi sui rilievi se non nella parte meridionale della regione, anche qui le temperature ancora in crescita per sabato, il cielo è sereno e nessun segno di precipitazioni. Per domenica, anche qui vedete, c'è poco da dire, sereno, bello, nessuna precipitazione e anche qui però le temperature in aumento e quindi insomma ci avviamo verso un weekend di bel tempo anche questa tornata. Allora ieri è stata una giornata, veniamo alla cronaca, i fatti presenti sui giornali, ieri è stata una giornata decisiva per il processo dell'omicidio ferri, si è arrivati a sentenza e i risultati penso li sappiate tutti, quindi c'è ampio spazio sui tutti i quotidiani per questa conclusione, per il momento, del processo. Partiamo dal resto del Carlino, delitto ferri, due pagine del resto del Carlino dedicate a questa a questa soluzione del processo, ergastolo a Sabano che rimane in pietrito e 24 anni a Bari che sorride, fa un sorriso amaro. È successo un po' di tutto, applausi scorcianti, le magliette con la foto di Andrea, applausi e anche urla e grida alla dichiarazione della sentenza. Il calibro del giudice dice su Karim esclusi i futili motivi e la crudeltà, il macedone invece deve fare almeno un anno di isolamento. Qui vedete nella foto Sabano che viene scortato le magliette, le magliette servivano a mantenere il ricordo vivo. Andrea era sempre con noi, scritto sulle t-shirt indossate in aula dagli amici dell'imprenditore, del benzinaio ucciso. L'altra pagina, sempre del resto del Carlino, il pianto poi liberatorio del fratello, ora non lo vedrò più in faccia, questo è il suo commento. Le urla, come vi dicevo, assassino verso il macedone quando viene portato via. Questi sono gli spettatori, i cronisti che assistevano alla lettura della sentenza, arrivata intorno alle 6, 6.20 più o meno. La vedova Simona dice, finalmente la giustizia ci abbiamo sempre creduto, infatti non siamo mai mancati. Già dall'arresto dei sospettati c'era stata subito una presa di posizione forte degli amici all'uscita della caserma dei Carabinieri, gli agenti hanno dovuto scortare con diverse difficoltà verso le auto per portarli via perché hanno rischiato il linciaggio da parte delle stesse persone che erano presenti in aula ieri. Cambiamo argomento, come cambia la città, rimaniamo sempre a Pesaro, la zona mare, nuova riqualificazione, altre destinazioni per vecchi hotel, il sindaco dice il piano di Cerisciogli ha funzionato solo in un caso, ieri c'è stato questo incontro pubblico tra amministratori e tecnici sulla programmazione, vedete questi sono lavori di abbattimento di un vecchio stabile e gli obiettivi si è affrontata, la questione del poro e del rilancio anche del centro storico. Rimaniamo nelle pagine del resto del Calino, però andiamo a Fano, impianto di cremazione al cimitero dell'Ulivo che servirà per tutta la provincia, un investimento importante 2.387.000 euro si realizzerà al cimitero dell'Ulivo, Ricci e Seri uniti in una conferenza stampa un segnale di civiltà per il territorio. La risposta nel 2014, i casi sono stati 265, negli ultimi 7 anni la percentuale è raddoppiata per questa esigenza. Ancora nelle pagine del resto del Calino si parla di politica, a parlare l'ex sindaco Carnaroli a riguardo del centrodestra, scatta l'orgoglio del PD, il centrodestra stia zitto, perentorio Carnaroli dopo 10 anni disastrosi di governo. L'ex sindaco dice che il centro-sinistra governa bene, i problemi non si risolvono con gli slogan. Stasera a San Lazzaro c'è un incontro pubblico tra il PD con gli amministratori e è aperto a tutti i cittadini per i problemi di quella zona. Ultima pagina che vi faccio vedere del resto del Calino. Mondolfo è uno dei migliori comuni dal punto di vista del riciclo, comuni ricicloni, e prende la palma d'oro anche per quest'anno. Mondolfo numero uno, Lega Ambiente ha premiato il comune per la seconda volta, per il secondo anno di seguito sulla gestione dei rifiuti e sul riciclo. Vedete gli amministratori ben soddisfatti per questo obiettivo centrato per la seconda volta. Andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico, pesanti tagli agli operatori in rivolta perché si parla anche qui di ambito territoriale 6 e 7, questa volta non per i conti ma per i fondi che si hanno a disposizione e che si avranno a disposizione. Si è scoperto pochi giorni fa di un taglio che è stato deliberato dalla giunta uscente in maniera paradossale perché per il 2015 c'è un buio pesto ma da 37 milioni di euro le quote potrebbero ridursi fino a 2 per un massimo di 8. Quindi si passa per l'assistenza ai disabili da cifre importanti a cifre molto più risicate e quindi una lettera di protesta sullo scenario futuro che si potrebbe verificare in questo ambito. Poi la direzione sanitaria, siamo sempre a Fossombrone, sull'incidente avvenuto al giovane dopo l'endoscopia doveva farsi accompagnare. C'è tutta una procedura, c'è un percorso da fare, momenti di osservazione però l'amministrazione dell'ospedale dice era al corrente che doveva farsi accompagnare a casa per i postumi dell'anestesia e il percorso post esame. Fano, Corri Adriatico, c'è chi si dimette dalla carnevalesca ma poi ci ripensa, l'assemblea di mercoledì sera ha sostituito i due vice che lo avevano lasciato, il 31 festa per i mille tesserati. E poi il comune sanzionato dall'Agicom, comunicazione illecita e quindi insomma il ricorso dei 5 stelle sulla campagna elettorale e le iniziative non indispensabili e quindi è andato a buon fine e quindi il comune è stato sanzionato per questo. Ancora dal Corriere Adriatico una questione che è sempre più impellente perché sono ritornati a transitare sulle nostre strade i maxi yacht, la nautica è in lenta ma costante ripresa e quindi si riaffacciano i problemi di sempre, ovvero sia il trasporto dalla zona di Bellocchi al porto. Maxi yacht attraversa Fano di notte ed è inadeguata la nuova strada delle barche quindi c'è il percorso, è un percorso ad ostacoli, cavi di alta tensione, alberi, case, rotatorie, segnali stradali che vanno spostati, insomma quindi c'è un problema per il trasporto e sono incoraggianti appunto i segnali di fiducia che riceviamo dal mercato, questo come vi dicevo per segnalare che è un mercato in lenta ma costante ripresa, ha tutto vantaggio anche dell'indotto, dell'occupazione e quindi anche dell'economia, insomma ecco i disagi ci sono ma l'altro rovescio della medaglia che è un'economia che sta riprendendo e quindi la direttrice dell'azienda Benetti dice fiduciosamente cresce appunto il comparto. Cambiamo testata, andiamo nel messaggero, vi dicevo la sentenza del processo per il delitto ferri è costante su tutti i quotidiani, quindi ergastolo per il delitto ferri, questo è il titolo di apertura del messaggero, la corte d'assise condanna Sabanov al massimo della pena e 24 anni a Bari, giustizia fatta, non vogliamo più vederli la vedova e il fratello e quindi nella fotonotizia vedete l'imputato a sentenza declamata e poi gli esami sulla Madonnina, caso risolto, sangue di pecora o capriolo e quindi risolto il giallo, il sindaco presenterà una denuncia per scoprire chi è l'autore di questa burla che ha tenuto banco per qualche giorno e vediamo che insomma il meteo è sempre sul affa costante, affa sempre opprimente il meteorologo del messaggero e poi il festival di Zingaretti, continua la bufera sui fondi comunali, strasciche ancora notevoli del noce e vimini chiamati a rispondere dei 130 mila euro prelevati d'urgenza e l'opposizione contesta la spesa e dice vergogna. Ancora dalle pagine del messaggero siamo a Pesaro in una zona Ledimar che è stata più volte bersagliata e frequentata dai ladri e quindi in un'assemblea dice ci paghiamo le telecamere da soli, le vittime dei ladri arrivano a questa conclusione, pieghiamo di tasca nostra l'importo della videosorveglianza del quartiere, la polizia suggerisce piuttosto ai residenti di installare impianti per rilevare la targa, quindi collegate a una blacklist delle auto rubate, insomma si può fare tanto, vedete il dirigente della squadra mobile Silvio Bozzi e il comandante della municipale Galdenzi e quindi Bozzi dice può diventare anche un progetto pilota per l'intera provincia sul fronte della sicurezza, chiaramente anche a Fano erano state presentate idee di questo genere e sicuramente abbiamo visto più volte anche sulla cronaca nazionale che questi apparati aiutano non poco le forze dell'ordine e l'individuazione dei malviventi. Andiamo a Pesaro sempre con il messaggero, pronto soccorso e 118, stesso medico, si parla delle aree interne, sono Cagli, Sasso Corvaro, Fossombrone e Pergola e quindi questa è una riorganizzazione decisa dall'area vasta 1 che innesca però la protesta sia dei sindacati ma soprattutto degli utenti che sono coloro che usufruiscono del servizio. E poi fuoco su 250 tonnellate di fieno, danni per 80 mila euro, la solidarietà del sindaco Baldelli all'agricoltore che è stato impegnato anche e a chi è stato impegnato nello spegnimento di questo rogo non di facile domatura insomma perché veramente sono impegnative queste operazioni dal punto di vista proprio anche della sicurezza e quindi un applauso ai vigili del fuoco per il loro lavoro. Si parla a Fano, partono gli esposti contro il Risto Beach, questa è la questione che è stata portata all'attenzione da Confcommercio che presenta una denuncia e quindi Varotti dice, il direttore provinciale, si scaglia contro la concorrenza sleale portata avanti dagli stabilimenti balneari a svantaggio dei ristoratori più tradizionali. L'ente carnevalesca Cecchini resta in sella, confermato alla Presidenza, cambiano invece i vice e quindi l'ultima notizia che vi do è questa, il comitato di Bellocchi illustra la sua battaglia a livello politico. Bene, questa era l'ultima pagina che vi facevamo vedere per questa rassegna stampa di oggi, grazie per essere stati in nostra compagnia, naturalmente vi ricordo l'appuntamento questa sera con Occhio alla Notizia alle 20.30. Grazie, buon proseguimento di giornata e arrivederci alla prossima.